Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. All'urlo di alt season oggi i mercati delle altcoins per l'appunto stanno confermando un rialzo già innescato ieri. Bitcoin è in una situazione molto instabile e il capitale sembra che si stia riversando sulle altcoins. Addirittura c'è capitali in affluenza da fuori che va pressoché direttamente sulle altcoins. Abbiamo la capitalizzazione in aumento e il prezzo di bitcoin statico. Raramente succede una cosa di questo tipo. Prima di farsi prendere dalla smania però è importante analizzare con fermezza la situazione e soprattutto pianificarla. Perché altrimenti queste sono quelle classiche situazioni dove l'emotività prende il sopravvento, l'avidità soprattutto che ci spinge ad aprire posizioni. E poi se non dovesse andare come previsto, cosa che può tranquillamente succedere, allora ci facciamo prendere dalla paura e va a finire che perdiamo soldi, quello è poco ma sicuro. Quindi oggi facciamo una piccola ricapitolazione su una strategia di approccio al mercato delle altcoins in queste situazioni. Che già vi ho descritto in un altro video, magari la riprendiamo un attimino. Infine analizziamo possibili proiezioni di capitale proprio sulle altcoins, nel senso quali potrebbero essere gli step di un eventuale ciclo rialzista delle altcoins. Come si confermerebbe soprattutto quali aumenti proietterebbe su di esse in base a una stima semplicemente del capitale che si potrebbe muovere. E infine andiamo ad esaminare alcune altcoins che io sto seguendo personalmente sulle quali ho intenzione di aprire posizioni e vi spiego bene o male i setup che utilizzo. Voi quali altcoins state seguendo? Ditemelo nei commenti, mi raccomando che così vi dico la mia opinione su di esse. E detto questo direi che possiamo andare a dare un occhio a questo mercato. Ma prima, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video che mi incentiva tantissimo a continuare a produrre video di qualità. Insomma il vostro apprezzamento è quello che mi dà la forza. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e cliccate la campanellina così siete sempre i primi a ricevere le notifiche dei miei video e non ve li perdete mai. Infine seguitemi sui canali social, in particolare Telegram che ci tengo molto perché pubblico un po' il mio pensiero sul mercato in tempo reale. Trovate tutti i link in descrizione. Detto questo andiamo a vedere un po' attuffarci in questo apparente inizio di Altsison. Seguitemi. Prima di iniziare vi ricordo di non farvi prendere dalla fomo perché già ho visto che molti si sono tuffati in posizioni senza sapere neanche cosa dire e cosa fare. Insomma io seguo vari gruppi Telegram così e noto che c'è un po' questa tendenza che ogni volta che parte un movimento ci si butta capofitto. Ecco, questa è una cosa molto rischiosa. Occorre sempre soppesare con cautela la propria esposizione, in particolare nelle altcoins che sono un mercato follemente volatile. Sappiamo molto bene che questi due giorni di pump che ci sono stati potrebbero tranquillamente essere annullati da un giorno. Se Bitcoin decide di fare degli strappi e il mercato decide di muoversi in un certo modo. Quindi mi raccomando non diamo mai niente per scontato e soprattutto non facciamoci prendere dalla sbaglia e dalla paura di perdere il treno. Perché come vedremo tra poco di strada da fare ce n'è ancora tantissima. Se davvero questo si rivelerà l'inizio di un nuovo ciclo rialzista per le altcoins. Qualcosa di più duratura appunto di un fuoco di paglia. Per descrivervi la situazione partiamo dal grafico della Bitcoin Dominance che non dovrebbe essere una novità se mi seguite. Sapete che lo utilizziamo spesso e volentieri per individuare la situazione attuale nel mercato, nel panorama altcoins. Quindi ci aiuta a capire quanto le altcoins sono in rialzo e in ribasso e soprattutto appunto che trend stanno seguendo rispetto a sua maestà bitcoin. Di solito se vi ricordate vi ho dato addirittura degli spunti operativi diciamo così o meglio vi ho mostrato quello che faccio io. Come mi comporto nei confronti delle altcoins e quali sono le condizioni che mi portano a comportarmi in un certo modo. Io mi sono dato delle regole ferre proprio per evitare ciò che ho già fatto in passato ovvero sovraespormi che è una delle cose più frequenti del mondo. Cioè comprare altcoins alla cieca fino a trovarsi in situazioni in cui più della metà del proprio portafoglio o addirittura situazioni folli in cui si è praticamente all in in altcoins. Più della metà appunto acquisendo altcoins oppure all in in altcoins. È una follia perché ci può sì andare bene se parte un bull market però non è possibile avere un portafoglio completamente esposto sulle altcoins per le quali un solo movimento di strappo ci potrebbe modificare il valore del portafoglio addirittura magari del 20%. Ecco è una cosa inconcepibile perché sì ci può andare bene però bisogna sempre pensare anche al caso peggiore. L'esperienza dopo un po' che ho commesso anch'io questi errori mi ha portato a pianificare una strategia estremamente concreta quindi con numeri che vi ho già condiviso in passato ci ho dedicato anche un video che vi lascio qua tra l'altro dove certe condizioni mi portano ad avere un'esposizione di una certa ampiezza sulle altcoins complessiva. Questa esposizione comunque rimane sempre ridotta perché anche nella migliore delle ipotesi non supera mai una cifra che va tra il 6 e il 10% circa del mio portafoglio speculativo. Ok questo quindi si parla di operazioni speculative di trades speculativi. Le condizioni semplicemente cioè sono veramente semplici prendono in considerazione le due medie mobile esponenziali 9 e 30 giorni e la prima condizione ha una chiusura del prezzo sotto la IMA 30 ok la media mobile a 30 giorni. Prima condizione di esposizione esposizione molto bassa intorno al 2% massima. Seconda condizione è il cross ribassista delle IMA 9 e 30 che mi impone cioè mi permette diciamo così di espormi al massimo circa il 5%. Ultima condizione è il cross ribassista del prezzo dalla IMA 100 100. Questo mi aumenta leggermente ancora l'esposizione e infine il cross ribassista della IMA 30 con la IMA 100 che è un ulteriore step nell'esposizione. Ovviamente questi sono numeri che decido io cioè valgono per me e per voi possono essere diversi ognuno deve avere il suo piano. L'importante è non andare alla cieca ovvero vedere che c'è un giorno due giorni dove ci sono i pump delle altcoins e allora comprare altcoins alla cieca e rimanere con più della metà del portafoglio in altcoins che poi appunto se domani ci becchiamo un altro bello spike al rialzo pump della dominance che mi annulla completamente ciò che è accaduto oggi e ieri vediamo il nostro portafoglio dilaniato in un attimo. Ora che vi ho terrorizzato per bene o almeno lo spero perché magari appunto un po' di senso critico male non fa è sempre meglio essere cauti nel mondo delle cripto perché insomma la volatilità è all'ordine del giorno come ben saprete andiamo a definire un po' quelli che potrebbero essere i target di un inizio di eventuale ciclo rialzista delle altcoins stesse e a stimare ho fatto un piccolo calcolo che potrebbe dare appunto una stima di quelli che potrebbero essere i guadagni delle altcoins rispetto a bitcoin nel caso in cui il capitale appunto si riversasse dentro di esse secondo i supporti semplicemente gli step come vedete in maniera molto chiara su questo grafico che la dominance potrebbe fare un po' alla volta. Allora oggi tra l'altro ho anche scritto un post su facebook dove ho riassunto in maniera abbastanza semplice quello che vi sto dicendo adesso e soprattutto le condizioni con le quali ho calcolato questa stima è una stima abbastanza grossolana perché ovviamente tutto può accadere potrebbe concentrarsi il capitale su una sola altcoin piuttosto che spalmarsi su poca insomma io ho fatto un'ipotesi molto semplice molto grossolana nella quale più o meno il capitale si va a distribuire in maniera abbastanza equa su di esse per appunto evitare casi particolari e ho considerato la capitalizzazione delle top 150 anche perché ovviamente se andiamo a prendere le capitalizzazioni della coin numero 1000 capite che basta un micro capitale che arriva da bitcoin che fa un pump fuori di testa quindi partendo da questi presupposti andiamo a fare una stima di quali potrebbero essere i gain delle varie coin da un supporto all'altro come vedete è molto semplice basta fare un po' di analisi tecnica sulla dominance avevamo anche individuato questo pattern di top dopo la decelerazione dell'up trend chi mi segue su telegram sa perché abbiamo fatto analisi proprio step by step e una volta che abbiamo visto questo breakdown questo breakdown e soprattutto i due segnali che vi ho detto prima delle medie mobili abbiamo detto bene è l'ora di iniziare a fare la caccia a qualche posizione mi raccomando non chiudete il video prima della fine perché alla fine andiamo a vedere un paio di esempi di posizioni che si possono prendere sulle altcoins in maniera ragionata e non impulsiva allora purtroppo io avevo scritto bene tutto su trading view ma poi mi ha cancellato il setup quindi io riprendo perdonatemi lo screenshot che ho fatto oggi e vedete allora abbiamo il primo step che l'abbiamo già raggiunto in verità ovvero questo primo supporto questo massimo precedente secondo step breakdown da qua e andare al target dei 66,5% circa abbiamo un meno 5% all'incirca ecco qua in realtà ho preso un livello un po' più basso perché sono andato a toccare la base però la base scusate del picco precedente però non cambia molto il discorso abbiamo un meno 4% meno 3,8 insomma meno 4,90 non c'è grossissima differenza la stima fatta è che le altcoins se il capitale si riversasse in S in questa misura guadagnerebbero dal più 30 al più 100% su bitcoin nella top 150 quindi più 30% quelle più capitalizzate chiaramente più 100% quelle un po' più piccole sotto le ipotesi infatti vedete che ha un range molto conservativo secondo step rottura anche di questo supporto e passaggio a quello inferiore altro salto più o meno del 4% in basso della dominance che arriva all'incirca al 63 e abbiamo stavolta complessivamente non da qui a qui ma sempre da qui a qui un range che va da più 80 più 200% su bitcoin sempre con la stima precedente ultimo step invece che è un po' più marcato perché il supporto sottostante si trova al 5% in meno quindi circa il 60% di dominance e abbiamo un pump che va dal più 120% al più 400% su bitcoin chiaramente poi scherzosamente qua ho scritto moon nel senso che se viene rotto il supporto del 60% che è un supporto veramente importante ecco che potrebbe esserci davvero una forte accelerazione e ovviamente non è che da un giorno all'altro abbiamo un breakdown dopo l'altro perché ci saranno consolidamenti tra una fase e l'altra suppongo perlomeno però ecco questi bene o male sono i checkpoint da tenere in considerazione per avere un'idea più o meno di quanto capitale si potrebbe muovere capite anche che siamo molto lontani guardate dai vecchissimi bottom invece della bitcoin dominance quindi appunto superato questo checkpoint chiave diciamo così ci fa capire anche che questa è una punta rispetto a tutto il movimento che è stato fatto quindi c'è tutto da vedere è inutile fare predizioni a lungo termine bisogna seguire passo dopo passo il mercato ora veniamo al dunque altcoins quali sono in posizioni interessanti praticamente tutte però ovviamente bisogna fare una selezione la selezione si dovrebbe basare sui fondamentali e bene o male sull'impostazione tecnica del grafico io per prima ovviamente sceglierei ethereum che se vi ricordate abbiamo seguito durante il suo breakdown il breakdown è avvenuto e adesso guardate c'è questo segno di pump insomma questo primo pump che ha bucato con moltissima forza quest'area di resistenza guardate come ce la siamo mangiata con volumi che mi piacciono sono ben sopra la media e soprattutto appunto avendo un movimento che inizialmente ci poteva lasciare il dubbio se si trattasse dell'ennesima correzione del tipo a b c e poi prosecuzione ribassista adesso invece sembra proprio voler vista l'entità di questa onda essere un tipo 1 2 3 4 e 5 e poi correzione dove andiamo a buscare quindi ethereum quale potrebbe essere un buon entry per ethereum allora la cosa più ovvia è lo stop loss che se mi seguite spero che già abbiate nella vostra testa dove metterlo ovvero sotto i minimi che è un setup bellissimo per me quello che è lo stop loss sotto i minimi sono quei reversal che espongono magari un rischio di posizione un pelino più alto però il risk to reward ratio è veramente il massimo non si può mai chiedere di più perché se poi il reversal si rivela reale abbiamo davvero la possibilità di cavalcare un trend nascente cosa che accade poche volte e pertanto come evidenziato qui come abbastanza anche ovvio secondo me l'entra ideale è proprio su questa zona di supporto quindi tra i 0,018 e 0,0193 ecco arrotondando un po' per eccesso quindi spezzare un po' di entries magari qui dentro in tre punti un po' di entry scusate in tre punti primo target potrebbe essere questo ok quindi entry spezzati qua magari un terzo un terzo e un terzo della posizione stop loss sotto i minimi e poi primo take profit all'incirca 0,021 questa prima area di resistenza se si vuole fare altrimenti si aspetta di vedere appunto segni di indebolimento del trend dipende poi dall'approccio che si ha ovviamente se il trend poi dovesse aumentare scusate continuare la tecnica rimane quella che a me piace per seguire queste situazioni ovvero ogni qualvolta il mercato forma un higher high rispetto al precedente io sposto lo stop loss leggermente più in alto al minimo superiore però appunto prima voglio vedere la formazione di un high e poi un higher high e ogni higher high sposto lo stop loss fino appunto con lo scopo di seguire il trend ethereum numero 1 numero 2 ripple ripple anche lui ha una bella formazione in corso leggermente diversa da ethereum perché ovviamente è un downtrend anche lui bello marcato e vedete ha bottomato permettetemi il neologismo molto molto cacofonico però insomma si fa capire in questo rettangolo che va da 2400 satoshi a 2750 circa poi abbiamo un breakout da questo rettangolo di potenziale bottom con volumi che mi piacciono sono più o meno il triplo della media e abbiamo la rottura del minimo scorso quindi abbiamo un po' di segni insomma di ripartenza ecco che si fa quindi in questi casi potremmo ipotizzare sempre che questa sia una prima onda di una bella partenza pertanto io su una posizione di questo tipo allocherai un rischio inferiore rispetto a quella su ethereum perché capite che fa più passi avanti con l'immaginazione perché qui siamo alla prima onda su ether invece avevamo già due onde concluse quindi è un movimento un po' più strutturato questo è più anticipato però vedete abbiamo questo livello qui che si presta bene come entry 2870 circa quindi entry e poi ripartenza è l'ipotesi chiaramente stop loss sempre sotto i minimi strategia va bene come quella precedente nel senso a trailing stop ad ogni higher high io sposto lo stop al livello successivo per seguire il trend mi piace come come situazione perché questo livello abbastanza consolidato tra l'altro è anche forse il point of control della zona se escludiamo l'area qua in alto vedete che questo diventa il point of control pertanto mi piace è una zona di accumulazione molto molto solida ci sono tante tante altre altcoins in situazioni simili perché lo sapete è un mercato che si muove all'unisono io ve ne ho evidenziate due così per scelta personale sono quelle che sto seguendo io di più ma non sono le uniche non ve ne tiro fuori altre al momento perché poi ci aggiorniamo venerdì facciamo una bella analisi estesa nel nostro live e poi non voglio appunto fare un video che duri secoli vediamo come continua il mercato non abbiate fretta perché non è che ho entrate oggi o non entrate mai più se davvero parto un nuovo ciclo rialzista delle altcoins ci sarà tutto il tempo del mondo per goderlo questo potrebbe essere davvero solo l'inizio e essendo l'inizio potrebbe anche sporci a situazioni sbagliate come vi ho detto quindi nessuno dice ancora che è partito che è partita la famigerata altseason mi raccomando cautela esporsi un po' alla volta quindi magari seguite adesso due o tre altcoins cercate i setup long aprite le posizioni lì un po' alla volta poi se il ciclo continua si vanno a piramidare le posizioni esponendosi sempre di più ma senza esagerare sono sempre altcoins le altcoins sono un qualcosa che cambia nel giro di un giorno ti sovverte completamente lo scenario come è successo oggi e ieri può succedere tranquillamente nell'altra direzione abbiamo tra l'altro bitcoin in una situazione estremamente di dubbio quindi capite bene che c'è sotto una bomba orologeria nel senso bitcoin prima o poi strapperà le altcoins come reagiranno prosciugheranno tutto il capitale che ci ha finito dentro continueranno a galloppare facciamoci sempre anche queste domande prima di sovresporci riguardo alle altcoins infine vi ricordo che è ancora in vigore fino a fine mese ce l'ho anche questa sulla pagina facebook la promozione dedicata alla nostra community di 100 dollari bonus su Bybit secondo la quale appunto se vi scrivete con il link che trovate in questo post e che vi lascio in descrizione ovviamente nel video e depositate 0.2 bitcoin almeno in un'unica transazione avrete un bonus di 100 dollari da utilizzare per il vostro trading i cui profitti poi potrete tranquillamente ritirare e Bybit è bello a proposito di altcoins perché vi permette di fare trading sulle altcoins principali quindi Ether, EOS e Ripple utilizzando le altcoins stesse come collaterale quindi cavalcare un pump guadagnando ancora di più sia dal long che dalla crescita del collaterale oppure nel caso di downtrend shortare e guadagnare altre coin di quella speciale così da accumularle come ho fatto io con Ether per chi mi segue sicuramente sa di cosa parlo ragazzi detto questo io vi saluto spero di vedervi domani numerosi all'evento di Binance e Eidoo e ci vediamo venerdì per continuare questa analisi magari con un po' più tempo a disposizione buona serata e alla prossima